C'è un tema però, vista la dimensione che ha l'infezione in alcune zone, quindi riguarda migliaia di persone, è evidente che non è oggi fattibile un monitoraggio di tutti i positivi possibili. Credo che l'attenzione più grande debba essere laddove il numero di positivi è più basso e quindi lì è veramente molto importante intercettare rapidamente le persone per evitare la diffusione. Dove c'è invece elevata circolazione come Lombardia è importante che tutti siano consapevoli degli atteggiamenti che devono assumere. Anche le persone sintomatiche che magari non hanno in questo momento un test positivo, ma che nei momenti in cui hanno sintomi che in qualche modo sono quelli di questa cosa, devono comportarsi assolutamente come persone che potenzialmente possono diffondere. È chiaro che non ci permette oggi di ottenere una stima compiuta dei cosiddetti soggetti asintomatici o con sintomatologia sfumatissima tale per cui non vengono sottoposti, ma non per scelta, proprio per mancanza di indici di sospetto alle procedure di tampone rinofaringio. Dove si è fatto anche qui, diciamolo chiaramente per l'ennesima volta, uno sforzo formidabile in tutto il paese con un numero di laboratori che sono impegnati in questo tipo di diagnostica che è in continuo aumento, ma che evidentemente non sarà mai capace di rispondere a un paese che ha 60 milioni di abitanti. Anche perché, l'ho detto tante volte, lo ripeto, il tampone dà una fotografia di quanto esiste al momento in cui viene realizzato. È chiaro che un soggetto che oggi è negativo, quattro giorni dopo può diventare positivo. Non possiamo pensare di continuare a ripetere a tutta la popolazione italiana ogni quattro giorni, ogni sette giorni il tampone. Questo ha fatto sì che noi adottassimo esattamente le indicazioni che sono suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anzi, aprendo un pochino di più a determinate categorie di soggetti come sono gli operatori sanitari, esattamente con la logica di provare a tutelarli al massimo. Grazie.